Io, a differenza di tanti altri, vivo il mare da quando ho deciso di fare questo mestiere. Io dico sempre ai giovani che dovrebbero provare quello che abbiamo fatto noi nei nostri anni calienti. L'attività mia nasce a Milano nel 78 e dopo 20 anni di attività milanese ho deciso di tornare nella mia patria che è la Sicilia dove chiaramente la vicinanza sul mare per me è il massimo della mia passione. Grazie a tutti. Io credo che dopo 30 anni di attività con tanta passione perché io, a differenza di tanti altri, vivo il mare da quando ho deciso di fare questo mestiere che è arrivato per passione. Lo vivo, l'ho vissuto, lo vivrò ancora e posso dire a questa gente che si avvicina anche per la prima volta per l'acquisto di un'imbarcazione piuttosto che un gommone perché ci sono anche delle imbarcazioni che sono delle belle imbarcazioni, però va valutato un attimino la proporzione, cosa si vuole fare di questa imbarcazione. Certo, un gommone pneumatico a differenza di un'imbarcazione a parità di misura abbiamo da 1 a 100 a differenza della sicurezza. E' vero che ci vogliono le comunità ma è pur vero che navigare significa navigare in sicurezza. Certo, un gommone pneumatico a parità di un'imbarcazione. Certo, un gommone pneumatico a parità di un'imbarcazione. Il mezzo è quello che mi dà sicurezza. Non posso permettermi il lusso che per risparmiare qualche centesimo di prendere una bagneruola che quando faccio magari tre miglia alla costa potrei anche trovarmi in difficoltà. Il mare ti offre una natura che secondo me non esiste qualcosa di uguale. Certo, un gommone pneumatico a parità di un'imbarcazione. Il mare ti offre un'imbarcazione.